Salve amici del Centro Medio Italiano, anticiclone protagonista nel weekend con sole e clima pinte. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 23 marzo. Al mattino tempo asciutto e generalmente soleggiato eccetto qualche innocua nube tra Piemonte e Liguria. La situazione non cambia al pomeriggio, con sole prevalente da nord a sud, salvo locali addensamenti sulla Sicilia e sul medio adriatico. In serata e nottata ancora condizioni di tempo stabile sull'Italia, con ampi spazi di sereno alternati solo a qualche nube sul tirreno centro-meridionale. Per quello che riguarda le temperature, le minime sono in lieve calo special sud, massimo invece in aumento su tutta Italia. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sia sul nostro sito o sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.